buona sera caro va bene torniamo presto allora ho il lunedì, oddio martedì giovedì vedo il dì oooo davide buonasera living everyone 3 vabbè non c'è bisogno è abbastanza conosciuto sono già pronti ciao sarbon come va tutto bene? ciao buona notte a tutti saluti pure davide si iscrivimi su discord mi raccomando se vuoi chiedere una cosa ci sono numero uno numero uno prima prima il c'è Grazie a tutti. Rankerd. L'unione di Rank è nerd. L'unione di Rank. 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 Sets. L'unione di Rank.